Buongiorno, sono Stefano Bianchi, socio di Abicoplan, società di consulenza e auditi in logistico. Sono molto contento di essere stato qui perché veramente ho potuto toccare con mano tante innovazioni tecnologiche che ammetto pur da consulenza e che dovrebbe essere sempre aggiornato non conoscevo e quindi ho capito che Jungaric oggi dispone veramente di una gamma di prodotti tecnologici completa e quindi sicuramente ci sarà modo di utilizzare qualcuna di queste tecnologie in un prossimo futuro. Grazie.